Musica Io è Hart, un mistero lungo, 87 anni. Benvenuti a tutti e grazie per esservi soffermati sul mio canale, Storia e Cultura Sprint. Iscrivetevi al canale gratuito, mi aiuterete a portare avanti il mio progetto divulgativo. Grazie, vi ricordo che è possibile abbonarsi al canale, un piccolo ma fondamentale contributo. Amelia Mary Earhart nacque il 24 luglio 1897 a Hutchinson in Kansas. Aveva una sorella minore di nome Muriel e con lei visse fino al 1908 con i nonni per poi raggiungere definitivamente i genitori in Minnesota. La personalità di Amelia fu sempre ben definita, coraggiosa, intraprendente ed estremamente dinamica. Ma Amelia fu anche molto altruista e dopo aver conseguito il diploma in infermieristica restò a servizio negli ospedali militari canadesi per tutto il corso della prima guerra mondiale. Il 1920 fu l'anno che segnò il destino della giovane Amelia, la quale durante la visita ad un raduno aeronautico a Long Beach in California insieme a suo padre capisce che il volo era ciò a cui era destinata. In quell'occasione infatti Amelia sale per la prima volta in vita sua a bordo di un biplano e da lì a breve inizierà a frequentare delle lezioni di volo. Amelia Earhart, incoraggiata e sostenuta dai suoi genitori, snocciola una serie di record a partire già dai primi anni 20. Sarà la prima donna a raggiungere l'altitudine di 4.300 metri. Nel 1928 sarà la prima donna ad attraversare l'Atlantico a bordo di un Fokker F7, il Friendship. L'8 aprile 1931 a bordo di un Pitcairn PCA2 stabilisce il record mondiale di altitudine e nel 1932, oltre a compiere la trasvolata in solitaria dell'Oceano Atlantico, Lady Lindy, come viene soprannominata Amelia, attraversa in volo gli Stati Uniti senza fare mai scalo, da Los Angeles a Newark in New Jersey. Lady Lindy non si accontenta di aver stabilito questa serie incredibile di record. Il suo sguardo punta molto lontano, molto in alto e dopo aver compiuto un'impresa davvero epica, ovvero l'attraversata del Pacifico da Oakland a Donolulu, Amelia Heerhardt inizia a pianificare il giro del mondo in aeroplano, seguendo la rotta equatoriale. Siamo all'inizio del 1936, il nome e le imprese di Amelia sono ormai conosciuti in tutto il mondo. Questa donna, decisa, è diventata un'autentica celebrità, ma oltre a essere un'aviatrice con i fiocchi, Amelia si scopre anche ottima progettista e studia personalmente tutti i componenti che le avrebbero poi permesso di tentare la sua grande impresa. Seguendo le specifiche fornite da Amelia, la Lockheed Aircraft Corporation mise a punto un aeroplano bimotore, il Lockheed L10 Electra e dopo aver reclutato come navigatore il capitano Henry Manning e come secondo navigatore Frederick Nunan, venne stabilita la data della partenza, il 17 marzo 1937, giorno di San Patrizio. Ma questo primo tentativo annò in fumo, a causa di problemi nel meccanismo del mozzo dell'elica. Un secondo tentativo, al quale non aderì il capitano Manning, preso il via il primo giugno 1937, quando il velivolo L10 Electra, con a bordo unicamente Amelia e Nunan, decollò da Miami. Inizia così un mistero lungo, ben 87 anni, ad oggi ancora avvolto nella nebbia più totale, ma con un'unica certezza. Il capitano Manning, nel momento in cui decise di non far più parte dell'equipaggio di Amelia Heard, si salvò la vita. Dopo aver percorso ben 35.000 km in volo, con varie tappe, il 29 giugno 1937, Amelia e Nunan atterrarono a lì, in Nuova Guinea, per poi ridecollare, con l'obiettivo di compiere gli 11.000 km che rimanevano per completare l'impresa, il 2 luglio 1937, 3 a mezzanotte. A questo punto ha inizio l'ultimo e drammatico volo di Lady Lindy, la cui destinazione era l'isola di Howland, dove li attendeva il cutter della Guardia Costiera statunitense, che aveva il compito di guidare l'Electra fino all'isola. Era stato infatti deciso di applicare l'innovativa tecnica, per quei tempi, della navigazione radio, ovvero Amelia Earhart, nella fase di avvicinamento ed atterraggio all'isola di Howland, avrebbe dovuto farsi guidare dall'equipaggio del cutter, in cui nome era Itasca. Mi scuso, ma non so se si pronunci Itasca o Itasca, piuttosto che in qualche altro modo, non sono riuscita a trovare questa informazione. Le teorie riguardo ciò che accadde quel 2 luglio sono tante, si ipotizzano incomprensioni nella comunicazione, errori nel riportare le posizioni, persino un'incredibile leggerezza nell'utilizzo del sistema diffuso orario. Amelia si sarebbe rifatta a quello di Greenwich, mentre l'Itasca al sistema navale. Tra le 7.42 e le 8.43 del mattino, l'Itasca cattò le ultime comunicazioni radio di Amelia e l'equipaggio comprese che lei invece e Nunan non riuscivano a sentire i loro comunicati, le loro risposte. Evidentemente il sistema radio dell'Electra non funzionava a dovere. L'Itasca tentò una comunicazione in codice Morse, ma Amelia rispose che pur avendoli captati, non riusciva a utilizzarli per capire l'effettiva posizione dell'Itasca. Il 6 luglio 1937, dopo quattro giorni di presunti ma incomprensibili segnali radio da parte di Amelia Hira, fu il silenzio e a questo punto il presidente americano Franklin Delano Roosevelt autorizzò le operazioni di ricerca. La nave da battaglia a Colorado, con a bordo un aereo da ricognizione, si portò a ridosso delle isole fenice nel Pacifico centrale, a sud dell'isola di Howland. Tutti gli sforzi furono vani e nessuna traccia di Amelia, Nunan e del loro velivolo furono rinvenute e pertanto le ricerche vennero sospese il 19 luglio 1937. George Palmer Putnam, il marito di Amelia, con il quale era convolata a nozze il 7 febbraio 1931, dal quale non aveva avuto dei figli, affittò due piccole navi e raggiunse ed ispezionò oltre alle isole della Fenice, le isole Gilbert e le Marshall, ma anche lui purtroppo non ebbe successo. Amelia Heerhardt venne dichiarata legalmente morta il 5 gennaio 1939. Nel corso degli anni sono state ipotizzate varie teorie riguardanti il destino di Amelia Heerhardt e di Frederick Nunan. Si ipotizza la caduta in mare l'innavissamento dell'Electra, come pure l'ammaraggio seguito poi dal raggiungimento a nuoto di una delle isolette del Pacifico, oppure, come avrebbe dichiarato George Palmer Putnam Jr., figliastro di Amelia, l'aereo finì il carburante e si innavissò. Naturalmente non manca la teoria secondo la quale Amelia sarebbe stata coinvolta in un'operazione di spionaggio che le è costata alla vita. Altre ancora sostengono che Amelia e Nunan siano stati fatti prigionieri da soldati giapponesi per poi essere giustiziati come spie o morti in un campo di prigionia. Un'altra ipotesi smentita poi da esami forensi nel 2006 voleva che Amelia fosse sopravvissuta alla prigionia e fosse rientrata in America con il nome di Irene Craigmile Bolam. Il 27 gennaio scorso è stato annunciato il ritrovamento di un aereo ancora intatto che corrisponderebbe alle specifiche dell'Electra di Amelia a circa 5000 metri sul fondale marino a 100 miglia dall'isola di Howland. Si sta valutando la possibilità di riportare in superficie il velivolo ma i tempi stimati sono di 5-10 anni. Se l'articolo vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima!